ciao ciao a tutti stavamo tornando da fuori c'è andate a farci un giro fa caldo siamo presi un gelato alla pizza carta con il frittello e la trippa e la poletta la poletta buona è buona tra poco vomitiamo dai ma cosa c'entra candy cos'è sta cosa una borsa che è una borsa dell md una borsa dell md ma cosa la spesa ma ma vediamo non so se ti rendi conto ma dopo me in quattro domande e una prova abbiamo vinto grazie a te che adesso siamo siamo un po' agitati adesso guardiamoci di tutto pian piano fammi togliere scarpe voglio scarpe ma tenetele su perché per fare il video sono scomodo io mi tengo che sto a cantare ho capito che adesso siamo un po' felici siamo un po' felici perché è tornato tutte le nostre cose però fermiamoci eh fermiamoci ragazzi non ci credo c'è eravamo andati fuori per mangiare un gelato io a tre gusti lui a due gusti siamo tornati ritroviamo la spesa dell md se vi ricordate nel video è entrato un lato in casa nostra quando abbiamo visto la registrazione c'era proprio questa borsa dell md la borsa è quella borsa la toccata lui che schifo vabbè poi ci laviamo le mani ci disinfettiamo allora vediamo un po' se ci sono tutti magari Mr.Crasy che ha diffuso il covid nel mondo eh riprendimi va Mr.Covid allora allora cominciamo Scooby-Doo e Tom e Jerry ecco che c'erano un sacco di cose tue che sono sparite Bugs Bunny è vero tantissime cose mie mamma ha perso l'aereo Scooby-Doo non può mannare ma tutte le cose mi ha rubato eh sì praticamente sì tutto il Scooby-Doo no questo è tuo eh ah verdi i dreni poi Scooby-Doo sempre Scooby-Doo allora facciamo così da questa parte le mie e da quella le tue eh era quasi tutta roba tua perché a me mi hanno portato i CD dei Queen eh questo è il libro di Peter Pan di Peter Pan tutto Scooby-Doo ragazzi mi hanno portato tutti gli Scooby-Doo ma cos'è che ha comprato Scooby-Doo? Er Er Scooby-Doo Sanremo ah pure Sanremo Sanremo non mi ricordavo che mi aveva portato io anche Sanremo è vero ci aveva portato io anche 2008 Heidi Erfinde Heidi la copertina di Celentano il CD di Celentano ma la copertina è basta e dove è il CD? no l'abbiamo perso noi non è che succeda roba eh ma non si fa così è dovete avere più cura delle mie cose ho tutti i CD love tutti i CD? ora quanti CD? il siglo dei cartoni un sacco di roba qua boh hai di due il ridotto hai di due pure questo forse è il CD decennità no no Dani Natale Bambini Dani Natale Bambini ma perché hai cantato canzoni di Natale Bambini? no non so io che canto e chi è? i bambini e allora perché si chiama Dani? perché l'avevano registrato per me? Geronimo Stilton ah è vero che mi aveva rubato tutti Geronimo guarda qua guarda qua tutti Geronimo il libro della terra nei primi video quando abbiamo fatto mostrare i nostri regali di Natale tutte queste cose c'erano vi ricordate? lui di sicuro no perché non si ricorda ne niente dai vai vedere i tuoi occhi vediamo un po' ah pure delle foto ma ah tutte le foto le foto di quando ero giovane guardate quando era giovane mio padre ma si anche se si vede ma parce ma parce vediamo se c'è qualche foto mia di quando no no sono solo foto nostre mi sa ah si guardate ecco qua c'è soltanto lui ma già ma c'è già da giovane facciamo diversi non so se venite conto già da giovane guarda qua spiaggia con il suo fisicaccio eh no è sicuro cenettano qua con il suo fisicaccio guarda che muscoli il tartaromba e basta prendere in giro prima la Spagna vabbè adesso non ci mettiamo a guardare le foto ma chi era questo? pupazzo Crusty Crown ma ero quale adesso se no non ancora vi sto sentì che dobbiamo fare video a guardare foto eh se no chiamavamo il video le foto del Dani allora poi ci saremo sempre c'è l'entrano senza ancora il cd azzurro poi adesso è una canzone di Natale tutti ancora ma perché ne ha rubato ma quanta roba ce l'aveva portato via ma ma si era riempito tutto pian piano eh ma alcuni erano là eh eh sì però ci ha rubato tutti Geronimo tutti scopi tu paverino l'ultimo l'ultimo radio di Jason è un è un amico della mia madre ok abbiamo preso tutto c'è tutto guarda non c'è più niente c'è tutto allora non ti buttare non ti buttare giù non essere triste no no ti prego sei normalizzato sei buttato giù non suicidarti la vita può regalarti ancora belle cose no vabbè ma è md sta vero ando vai no non è md è md si ma ando ci mettiamo la via la via la fine ma ando vai allora ci vediamo tra poco quando avremo sistema tutte le nostre cose allora io adesso riprendo così così adesso blocco sblocchiamo con le cose in più tada notate qualche differenza beh sì questi prima non c'erano con l'album delle foto guardate e poi guardate qui sono tutti i nostri giornali che qua prima non c'erano sono ricomparsi e poi abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto tutto da Mr Crazy ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo sconfitto non so se vi rendete conto ma questo Mr Crazy ci perseguita dal vlog numero 30 ragazzi questo è il vlog numero 95 a 95 manca sempre meno al vlog numero 100 sorpresa sorpresa delle cose fantastiche no veramente una cosa fantastica due cose faremo tre cose eccezionali faremo tre cose due lo sapete già l'avevamo detto in un video e poi l'altra sorpresa plus siete curiosi vero eh dai allora adesso dai potremmo anche salutare allora sono contentissimi veramente adesso facciamo una storia su instagram però tiriamo su sto coso che mi fa tenere che c'è ancora cos'è sto coso guarda il pezzettino delle carte buttiamolo ma c'è scritto qualcosa aspetta non si vede è troppo piccolo che c'è scritto sappiate che tornerò no come tornerò e chi se ne frega ma come chi se ne frega scusa allora noi adesso abbiamo vinto sì siamo contenti abbiamo dovuto tutte le stavose chissà cosa farà la prossima volta ma non dobbiamo avere paura di mister crazy eh non abbiamo ma ti rendi conto di quello che ci ha fatto passare abbiamo risposto a quattro domande più approvi ma c'è scritto qui sappiate che tornerò l'ha scritto lui cosa? ma ti sento il momento di scherzare allora ascoltami c'era scritto sappiate che tornerò l'ho letto visto quindi significa che tornerò e speriamo di no magari solo speriamo il più tardi possibile il più tardi possibile fateci fare challenge eh appunto mister crazy ci hai fatto contento ci hai portato tutto e materati queste cose se vi è piaciuto il video dal uomo e se lui no aspetta 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 faccio una cosa io l'ultima e poi salviamo eh ho un sacco di cose da fare ok ok ho capito una cosa molto importante se vi è piaciuto il video qua dall'uomo md mettete un mi piace condividete iscrivetevi al canale seguitici su instagram e commentate se siete contenti che è tornato tutto io contentissimo questo sacco di mister crazy lo spacco poi laviamoci le mani due pazzo ciao 3 6 7 9 10 10 10 11 10 11 11 11 12 13 14 14 14 13 14 16